La società italiana e le grandi crisi economiche, un convegno dell'Istat alla Sapienza per celebrare i 90 anni dell'Istat. Ne parliamo con il presidente dell'Istat, il professor Giorgio Allela. Con il convegno che apriamo oggi concludiamo gli eventi scientifici organizzati in occasione della celebrazione dei nostri 90 anni. Eventi scientifici che ci hanno consentito di fare una riflessione sulle trasformazioni del sistema produttivo e della società italiana negli ultimi decenni. Con una lettura lunga che abbiamo fatto insieme ad esperti e studiosi nei vari campi in cui ci siamo addentrati. Debo dire che queste iniziative scientifiche sono state solo una parte del lavoro che abbiamo fatto. In particolare abbiamo fatto diverse iniziative anche di carattere divulgativo. Anche con i ragazzi delle scuole. In particolare si inserisce all'interno di un percorso in cui abbiamo voluto far vedere la connessione dell'Istituto con le vicende che hanno attraversato il paese. Lo abbiamo fatto con una mostra celebrativa. È la prima volta che l'Istat ha organizzato una mostra sulla propria storia. Al Vittoriano di Roma che sarà aperta fino al prossimo 7 gennaio in cui abbiamo voluto ripercorrere anche le innovazioni con cui l'Istat ha fatto il suo lavoro. Portando volumi di pregio, macchinari dell'epoca e raccontando, come ho anche oggi introdotto nell'inaugurazione, la società italiana anche attraverso una serie di storie. Quelle delle persone che oggi compongono la società italiana e che appartengono a generazioni differenti. Un tema che vorrei sottolineare è che abbiamo avuto grande cura nella interdisciplinarità perché abbiamo bisogno di contributi che ci vengono da tante discipline per riflettere in profondità sulle vicende del paese.